Benvenuti al Mottura. A partire da questo anno scolastico saranno attivate le seguenti curvature per gli indirizzi Geotecnico con curvatura geomatica, Elettrotecnica ed elettronica con curvatura domotica, Meccanica e meccatronica con curvatura robotica, Indirizzo liceo scientifico scienze applicate, Diploma maturità scientifica in 5 anni tradizionale e in 4 anni sperimentale per la transizione ecologica e digitale, in rete con consorzio ELIS-NAM con opportunità occupazionali e formazione universitaria presso campus. Tutti i laboratori sono dotati di strumentazione geologica, elettrotecnica, meccatronica e robotica tecnologicamente avanzata ed ospitano un parco macchine che consente una didattica laboratoriale ed esperienziale di qualità sin dal biennio. L'Istituto è particolarmente attento alla robotica educativa a favore della didattica speciale che promuove l'inclusione e l'integrazione degli alunni con bisogni speciali. Biblioteca, Liberi libri, permette di fornire a tutti gli alunni libri incomodato d'uso, inclusione e ragazzi speciali. Istituto Mottura, Viale della Regione 71, 93 100, Caltanissetta. Grazie a tutti.